OLED. Ormai non si sente parlare di altro, ma cosa si nasconde dietro a questa tecnologia? Beh, cerco di spiegarvelo in 5 minuti. E per lo scopo ci fa da cavia il Corsair Xenion 27QHD 240, uno dei primissimi monitor OLED con diagonale da 27 pollici, formato molto simile se non identico ai classici monitor che abbiamo in casa, con una piccola differenza. Il classico pannello LCD è composto da 4 elementi, una sorgente LED retroilluminante, comune a tutto il pannello, un filtro polarizzatore verticale, lo strato TFT con la sua matrice a cristalli liquidi, un secondo polarizzatore ruotato di 90 gradi e infine il filtro RGB che genera il colore. Una struttura abbastanza articolata e qualcuno potrebbe giustamente chiedersi, ma perché al posto che usare una sorgente di luce unica non metto un piccolo LED dietro a ogni pixel? Beh, il problema è quanto piccolo. Purtroppo i semiconduttori inorganici che compongono i classici LED hanno dei limiti fisici e la rigidità e le irregolarità del materiale non ne permettono la lavorazione oltre un certo ordine di grandezza. Ma il concetto è giusto e rimane applicabile ad esempio per schermi molto grossi, come, che ne so, quelli dello stadio. Mentre per prodotti a grandezza umana avete indovinato, entra in gioco lo LED. Perché utilizzando semiconduttori organici è possibile, con qualche accortezza, realizzare diodi nell'ordine di grandezza dei micron, arrivando fino alla produzione di monitor ad alta densità come questo. Ma teoria a parte, nell'utilizzo di tutti i giorni che cosa cambia? Beh, la differenza più ovvia è il livello di contrasto, che si può raggiungere controllando in maniera totalmente indipendente la luce emessa da ogni pixel. Immaginate di avere uno schermo totalmente spento, come se fosse staccato dalla corrente, su cui si accendono solo i pixel necessari, rispetto ad un LCD che per sua natura avrà sempre l'intero schermo acceso e non riuscirà mai a filtrare il 100% della luce emessa anche nelle zone dove in realtà dovrebbe esserci del nero. E vantaggio trasversale, anche se è più utile per prodotti mobile, è ovviamente l'efficienza. Dovendo accendere meno pixel, gli OLED consumano. Ma un'altra cosa dove gli OLED primeggiano è la velocità. Con un tempo di risposta reale, largamente sotto al millisecondo, i monitor di questa categoria sono i più veloci sul mercato. Il risultato si traduce in immagini totalmente fluide e senza ghosting, limitate esclusivamente dalla velocità di aggiornamento del pannello, in questo caso 240 Hz. Ma se avete sentito parlare di OLED, a questo punto avrete sicuramente sentito parlare del suo più acerrimo nemico, il burn-in. In brevissimo, la teoria è questa. Se un'immagine rimane fissa per abbastanza tempo, verrà impressa permanentemente nello schermo. Ora lo so, è spaventosissimo. Ma la realtà dei fatti è comunque diversa. Servono giorni, mesi o addirittura anni di costanti elementi statici a schermo prima di iniziare a vederne i primi segni. Diciamo che è un rischio molto più concreto per le tv da esposizione, o quelle che riproducono 24 ore su 24 gli stessi contenuti. Ma per i comuni mortali, o per utilizzo PC, gaming o anche produttività, si può affermare in maniera abbastanza tranquilla che il rischio è molto molto basso, anche grazie ai numerosi sistemi di protezione ormai di default su tutti i modelli. E ovviamente non lo dico io, ma i produttori stessi. Infatti Corsair, come tanti altri, su tutta la linea OLED offre tre anni di garanzia che include tutti i fenomeni di burn-in. Detto ciò, ci sono ancora delle ragioni per scegliere un LCD? Beh sì, almeno per ora. Dato che gli OLED utilizzano una struttura sapixel diversa dal tipico RGB a cui il clear type di Windows è abituato, per il momento c'è ancora qualche problema di supporto e si genera quello che si chiama fringing nel testo, essenzialmente delle piccole sbavature. Sulle prime TV era effettivamente un grosso grosso problema, ma avendo provato entrambi devo essere onesto. Sui nuovi pannelli 27 pollici ad alta densità, soprattutto quelli di derivazione LG, è molto molto meno evidente e in più la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare con la terza generazione di OLED che invece utilizzerà una struttura RGVB proprio per andare a risolvere questo problema. Infine ovviamente il prezzo. È una tecnologia nuova e come tutte le nuove tecnologie parte da una cifra sicuramente elevata. Per questo modello siamo poco sotto ai 1000€ e per chi può permetterselo li vale tutti, ma semplicemente bisogna riconoscere che non è una cifra che tutti sono disposti o possono spendere.